Il cambiamento è qualcosa che fa parte della nostra vita e quando in questo processo qualcosa si inceppa andiamo in crisi. Qual è il segreto che lo psicologo deve tenere a mente per facilitare un processo di cambiamento dall'ambito clinico a quello delle organizzazioni con le persone con cui lavora? Ho posto questa domanda a parte delle persone che ho recentemente intervistato ed ecco le loro risposte. Mi occupo sia dal punto di vista accademico sia dal punto di vista professionale di interventi psicologici e sulla psicologia da circa 40 anni e ho imparato una cosa, che non si deve avere l'ambizione di mettersi in viaggio avendo già definito una nave e una rotta. Questa è una condizione in qualche maniera molto rassicurante ma non realistica. Più delle volte i viaggi sono fatti da zattere che richiedono una manutenzione, una riconfigurazione continua e da rotte che richiedono una ridefinizione continua in vista degli obiettivi che uno si pone e si ridefinisce. Grande flessibilità, grande utilità ma anche grande visione sulla stella polare che deve essere la meta da raggiungere. Le vie sono infinite ma la meta da raggiungere deve essere molto chiara. Well I think the first step is to establish an emotional connection with the person you're talking to and that means that you are aware of their emotions, you're aware of your own emotional reactions to that person so that they don't filter the information you're getting and that you convey a sincere interest in understanding and responding to the other person. We all have a story we would like to tell if we could only find someone who would really listen. Io sono uno studioso dei processi di psicoterapia, fattori comuni, fattori specifici, quindi potrei fare più un elenco infinito. In base sia agli studi, su questo devo tenere alta la mia natura da ricercatore studioso universitario, ma anche con l'esperienza clinica posso dirti che l'aspetto fondamentale qualcuno lo chiama empatia, qualcuno lo chiama relazione, qualcuno lo chiama ascolto. Io direi l'entrare comunque in sintonia con una persona e capire in quel momento evolutivo di che cosa la persona ha bisogno, perché molto spesso noi arriviamo con delle teorie forti dietro, appunto quelle che apprendiamo nelle scuole di psicoterapia, alcune scuole impongono magari delle teorie un po' più forti, altre lasciano un po' più di libertà, però spesso succede che lo psicologo, come dire, porti già la sua ricetta, porti già anche il suo piano terapeutico, mentre il saper seguire i movimenti del paziente in questa danza continua dove spesso il gioco non lo gestiamo noi, accettare anche l'incertezza, indeterminatezza è fondamentale, quindi il seguire i movimenti del paziente, l'ascolto, il muoversi con lui in base alle esigenze che ha in quel momento storico, che possono essere molto diverse da quelle che ha magari qualche anno dopo si ritorna. It's very difficult to be a therapist over a long period of time, because your job is to listen to complaints, worries, anxiety. So a therapist does really have to learn self-compassion and compassion for other people, that it's a very deep, almost a Buddhist orientation in order for you to do your job well day after day, year after year, and not burn out. So that's the first thing, and it's really thinking that you have some special gift to give to other people, to reduce their suffering, to make them not only well, but to go from living in a negative past to living in a future filled with hope. Per fare andare bene un processo terapeutico ci vogliono due capacità in qualche modo opposte e che è difficile in qualche modo declinare insieme ma che sono altrettanto importanti. La prima è sapere entrare in un mondo che è diverso dal tuo e rispettarlo, saper mettersi in sintonia con qualcuno che è diverso da te e lo vedi come diverso, lo accetti fino in fondo e sei empatico con lui, con il suo modo, con i suoi valori e li tieni ben presenti. Dall'altra parte l'altra capacità è di stare fuori, cioè di non collassare sul suo punto di vista, non essere così empatico da perdere il tuo punto di vista che deve essere completamente diverso dal suo. Non devi essere troppo, devi essere emotivamente empatico e cognitivamente invece essere fedele a un tuo punto di vista che ti restituisce una sorta di terzo occhio per cui tu vedi quello che lui non vede. Quindi devi essere leale a un punto di vista che ti permette proprio di porti in una posizione molto diversa da lui per restituirgli una visione diversa del problema. Allora, io credo che il segreto consista nel fatto che non c'è un segreto. Il problema è quello di essere in grado di individuare la tipologia di trattamento o le tecniche di trattamento che sono più adatte per quello singolo paziente o per quella specifica situazione clinica, psicopatologica. Direi che se ci si rende conto di questo si ha la possibilità di un percorso psicoterapeutico sufficientemente flessibile nei confronti del paziente. La vicenda del segreto qualche volta è una specie di autoillusione che soprattutto gli psicoterapeuti giovani coltivano nella speranza che ci sia una specie di chiave che è destinata ad aprire tutte le porte. In realtà questa chiave non esiste e se si tratta di una illusione dei giovani è sicuramente scusabile. Se ha una convinzione di psicoterapeuti più avanti con gli anni diventa qualcosa di abbastanza preoccupante. È legato al concetto di segreto il fatto che alcune scuole psicoterapeutiche, alcuni orientamenti psicoterapeutici danno l'illusione di possedere una specie di modalità tecnica, capacità che è destinata a funzionare un po' in tutte le situazioni cliniche. Questo in realtà non è vero e io credo che crescere come psicoterapeuti voglia proprio dire rinunciare a questa illusione e costruire il rapporto con il paziente giorno per giorno. Tenendo anche presente che tutta la ricerca sulle psicoterapie ci insegna che non sono tanto importanti le singole tecniche, ma è importante la qualità della relazione che si riesce a stabilire con il paziente. Questo è un elemento trasversale a tutte le tecniche sul quale si fonda un buon esito di un lavoro psicoterapeutico. Il segreto, penso, è di essere totalmente, 100% con il cliente in la terapia. Di essere sempre aware e di concentrare sulle necessità della persona. ma penso che sia proprio la creazione di una relazione terapeutica e di un'alleanza. E da parte del terapeuta ci deve essere una accettazione incondizionata del paziente, appunto rispettando i loro tempi, cercando di capire insieme i meccanismi e dando degli strumenti per poter crescere come persona. In realtà un lavoro di psicoterapia è anche basato su un nuovo attaccamento, un attaccamento più sano e funzionale in questo caso con una persona che è lì per lui. E quindi credo che questo sia quello che fa partire proprio il processo di trasformazione e di cambiamento. Guarda, la macchina della psicoterapia si chiama amore, che poi nell'ambito della psicoterapia si chiama transfer per non finire con far scadere una tecnica nella banalità della vita comune. Ma è l'amore quello che funziona. Come si articola questo amore? Si articola nel dialogo. Io non sono tanto d'accordo con quegli psicoanalisti che tacciano e aspettano che quell'altro arrivi da solo in cima alla montagna. No, bisogna dialogare. Il dialogo vuol dire anche accettazione della visione del mondo dell'altro. Il dialogo presuppone un atteggiamento di accettazione. Perché se tu parti dalla tua visione del mondo e non la metti a sua volta in questione e confliggi con la visione del mondo dell'altro, non stai ascoltando e ne dialogando con nessuno. Il dialogo è tolleranza e il dialogo è anche eclettismo. Non ho nessuna difficoltà a dire che per esempio è meglio lavorare fraudianamente con i giovani e unghianamente con le persone più anziane, per esempio. Non ho nessun problema ad essere eclettico, ma il problema grosso è appunto questa accettazione incondizionata dell'altro. Perché solo quando l'altro si sente accolto incomincia il discorso vero. Ma io credo che il contratto iniziale, il contratto qualunque sia il modello teorico, è determinante e strategico. Perché le regole del gioco, se sono condivise con il paziente, possono determinare un percorso verificabile nel tempo. A volte noi banalizziamo questo aspetto. Il contratto inteso come proposta terapeutica e come definizione anche delle parole chiave. Mario Welli, given that I'm such a proponent of hope and I study hope, I would say it's to activate hope. But I guess the two things would be to stretch, the therapist must stretch wide and must reach deep. And by reaching deep, I think they really have to understand the unconscious, the full complexity of the human being. They have to understand the nature of suffering. and by stretching wide what I think is really important is to read everything, read everything, not just psychology but also philosophy, theology spiritual texts the wisdom traditions, I think this is profoundly important, I would say in fact if you think about it some of the best insights into human nature have not come from Freud or Carl Rogers, they've come from Shakespeare, from Dante from the Greek philosophers I think it's profoundly important to be a well-rounded intellectual, to be a great therapist Nel mio lavoro che ha a che fare anche oggi con processi di cambiamento individuale cambiamento organizzativo quello che vedo il cambiamento che c'è stato più significativo è il passaggio da una relazione asimmetrica con le persone con i gruppi, con le organizzazioni in vesta di consulente di terapeuta di conduttore di gruppi ha una relazione più simmetrica cioè una capacità di mettersi in modo più cooperativo in relazione con le persone con i gruppi dentro il processo di cambiamento l'altra cosa è che il processo di cambiamento diventa sempre più imprevedibile quindi continuamente è importante ricordarsi di non stare dentro un'ottica lineare quando si pensa ai processi di cambiamento ma mettersi in un'ottica è un'ottica della complessità insomma io credo che è quello di domandarsi sempre mentre si sta andando avanti nel processo terapeutico dove siamo cioè cercare sempre di rendersi conto di ciò che sta accadendo con il paziente direi questa è la prima cosa la domanda giusta dove siamo la seconda cosa direi quasi non sentirsi superiore al paziente sentire comunque che la psicoterapia è un'avventura umana è uno scambio è un po' banale dirlo ma credo che a volte le banalità racchiudano cose profonde ma io credo che di segreti particolari non ce ne siano occorre che ciascuno di noi nel lavoro clinico consideri la teoria di riferimento le tecniche di riferimento e poi il fatto che nella clinica ci si mette in gioco ci mettiamo la faccia ci mettiamo anche il nostro corpo la nostra storia la nostra presenza ma nella clinica entra molto anche il non verbale quindi direi che un segreto o un trucco o un atteggiamento potrebbe essere quello di mettersi nei panni dell'altro perché se io mi identifico con lui senza essere con lui lo capisco e la comprensione genera la benevolenza che quello che la gente ha bisogno di scoprire perché si sente ben voluto può crescere e può superare il momento di crisi per cambiare le persone sempre cercano di cambiare le cose per loro e quindi è buono di capire cosa hanno cercato e cosa non funziona e è importante vedere il fatto che si mantiene dal cambiamento che è ofteno è un'attività di una visione di come poterlo e ci sono diverse di varie le persone sono normalmente troppo in mente e la creazione è la cosa più importante nel effettuare il cambiamento è vero il segreto per facilitare le persone a cambiare non esiste ma esistono diverse indicazioni preziose come ci hanno raccontato i colleghi che mi hanno preceduto e la tua risposta qual è? l'aspetto nello spazio dei commenti sottostanti ciao e alla prossima